Desidero fare un accenno sul Messia, che per molte persone può veramente sembrare un po' strano, detto da me. Sembrerebbe come se parlassi di geopolitica internazionale, ma forse perché sono la stessa cosa. Mi spiego meglio. È dove il nuovo ordine mondiale sta indirizzando i nostri interessi. Tante religioni stanno aspettando il ritorno del Messia, come ci sono religioni che aspettano l'arrivo della fine del mondo. Penso stiano semplicemente attuando dei procedimenti, meglio delle procedure, per realizzare la falsa invasione extraterrestre. Prima però, per avere successo, dovrebbero far fallire tutta la conoscenza archeologica fino ad oggi. Non farla fallire cancellando il nostro passato, perché dovranno reinterpretarla in modo sofisticato. Vi invito a vedere i video del canale con cui collaboro, The Secrets of the World, dall'inizio, perché si capisce, ad esempio, che coloro che hanno interpretato i geroglifici ovviamente si sono inventati cose senza alcuna conoscenza della fonetica degli egiziani. Nello specifico, l'egittologo Jean-François Champion è vissuto a cavallo fra la fine del 1700 e il 1800, vale a dire lo stesso periodo temporale, dove hanno vissuto la maggior parte di coloro che hanno iniettato tutte le teorie che ancora oggi insegnano a scuola. L'idea è che reinterpreteranno tutto quello che è avvenuto nell'antichità. Non dimenticate Anato Lifomenko, trovate il video attraverso Indice Alfabetico, che secondo i suoi studi, con la nuova cronologia, afferma che la maggior parte degli eventi storici che conosciamo sarebbero avvenuti tra il 1000 e il 1500, significa pertanto 400 anni aggiunti alla vera storia da parte dei manipolatori. Serve per arrivare a dare per certo che ci hanno creato gli extraterrestri. È stato nel 1947 che per la prima volta hanno parlato di flying saucer o dischi volanti, prima mai. Guardate anche il video Gli Invasori Spaziali, Osho e il Bosco delle Fate e vi renderete conto che, dalle ricerche che ho fatto, le locandine dei film prima del 1950 non hanno mai accennato agli alieni. La Miradio Bird si è suicidato. Questa è storia. Nell'anno 1947 si ritrovano i manoscritti dal mar morto Qumran, che hanno a che fare con questo. Tutto quello che succede in Israele ha a che fare con il mondo. Nasce per decreto lo Stato di Israele nel 1947. L'Unione Sovietica fa il suo primo contratto con la Tartide nel gennaio 1947 e succede il famoso incidente di Roosevelt nel Nuovo Messico. Il primo contatto con un UFO e qui inizia la storia degli UFO nel 1947, in luglio. Iniziano i film di Hollywood con gli extraterrestri marziani e gli UFO volanti dal 1947. Per chi ama indagare vi ricordo il video Extraterrestri, dove ho riassunto ed elencato molti video inerenti il tema, come quello dove il Papa dice che sarebbe disposto a battezzarli di extraterrestri. Da decenni attraverso i film continuano a proporre e proiettare sempre più incessantemente tematiche di invasioni aliene, senza contare le serie televisive. Il passo successivo, quello che stiamo vivendo ai giorni nostri, è il gigantesco gioco spaziale che stanno tenendo in piedi grazie a chi non è ancora in grado di comprendere che si tratta di un blef, di una beffa, di una messa in scena. Pertanto quello che faranno, con semplicità, sarà proiettare nel cielo a livello olografico con la tecnologia che si conosce, riproduzioni visive ma non reali. Inoltre riusciranno a realizzare le comunicazioni telepatiche bidirezionali, elettroniche, semplicemente ascoltando quando qualcuno che parla mescoleranno, meglio aggiungeranno, determinate frequenze che influenzeranno anche noi durante le nostre conversazioni telefoniche e o le videochiamate. Alla fine del gioco ci faranno credere a delle manifestazioni soprannaturali universali attraverso i media tecnologici digitali. Oggigiorno si vede chiaramente l'agenda che sta portando avanti i progetti malvagi. Stiamo vivendo la guerra delle informazioni e nulla può fermare quello che sta arrivando. Ma una volta che lo sai, non possono farti assolutamente nulla, sappilo. Non credete ad una singola cosa di quello che dicono come si vede alla fine del settimo episodio della playlist Storia perduta della Terra Piana. A disposizione avete il fantastico e completo indice alfabetico attraverso il sito tinelli.eu. Sempre a disposizione in bianco e nero il libro Il Risveglio, a colori solo nella versione e-book.